Noi della maggioranza voteremo voto favorevole assolutamente e io sono pienamente favorevole a questa risoluzione, a questa emozione perché assolutamente sono stato insieme alla libreria Fahrenheit 451 di Campo dei Fiori fino alle 3 di notte all'esterno a leggere proprio Fahrenheit 451 di Ray Bradbury e in modo chiaramente coinvolgente ma anche imbarazzante perché era un po' una violazione delle regole a quell'epoca quindi adesso se si può ampliare la possibilità di occupare suolo pubblico alle librerie non c'è solo la vendita dei libri ma anche la presentazione dei libri quindi facendo delle manifestazioni per cui si parla di un libro appena uscito anche con i banchi espositivi e altri prodotti editoriali come i calendari quindi voglio rafforzare il voto a favore, è molto importante per questa categoria di persone che presidiano il territorio grazie